Una truffa per mezzo milione di euro di fondi comunitari e locali è stata scoperta dai militari della tenenza della Guardia di Finanza di Popoli, che hanno dato esecuzione ad una serie di controlli finalizzati al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica con la denuncia di quattro persone. I controlli hanno riguardato realtà aziendali percettrici di finanziamenti pubblici stanziati con diversi bandi, anche a fondo perduto, finalizzati a sostenere lo sviluppo del territorio mediante varie progettualità. In particolare è emerso che le società richiedenti il contributo pubblico hanno ottenuto indebitamente l'erogazione mediante la presentazione di una falsa documentazione o di false dichiarazioni. Sul totale dei contributi controllati per oltre un milione e mezzo di euro, circa un terzo è risultato dunque viziato da anomalie e violazioni tali da poter configurare indebite richieste e percezioni di erogazioni pubbliche.